Salva Milano è necessaria questa norma per recuperare un gravissimo gap che purtroppo a causa non del governo e non del Parlamento è stata realizzata proprio qui nella città di Milano. Ora è inutile stare a guardare le responsabilità, dobbiamo pensare alle soluzioni e poi guarderemo anche quello. La soluzione sostanzialmente è l'applicazione di una nuova normativa che chiaramente però non deve essere calata solo su Milano perché ricordiamolo una giusta azione del buon padre di famiglia è quella di guardare all'intera nazione, all'intero paese e quindi dobbiamo applicare una norma che salvaguardi gli interessi di Milano ma che abbia chiaramente una prospettiva nazionale.